Se a livello regionale il centro-destra naviga in acque agitate, in provincia di Vibo Valenza la barca governata per Forza Italia da Giuseppe Mangialavori è approdata tranquillamente negli attracchi previsti e cioè la presidenza della provincia e Palazzo Sant'Anna, municipio di Tropea. In particolare nella perla del Tirreno si arrivava alle elezioni da mesi di commissariamento con tutti i problemi che questo comporta. È stato uno dei momenti in assoluto più drammatici della millenaria storia di Tropea. Tropea è una città non abituata a situazioni di questo tipo. I tropeani sono persone laboriose, oneste, di alta spiritualità. Oggi raccogliere l'eredità lasciata dalla terna commissariale, capisco anche le criticità determinate da una legislazione anche nell'aspetto patologico lacunosa, quindi abbiamo ereditato un quadro che è definire drammatico e ofemistico problemi molto importanti che vanno dalla casa comunale dove praticamente abbiamo la pioggia in tutte le stanze più importanti a iniziare da quella del sindaco, problemi su infrastrutture sensibili come l'impianto di depurazione. Ci hanno lasciato in eredità problematiche, a loro volta ereditate, le hanno lasciate alla futura amministrazione e tante altre cose. Comunque sia non mi va di guardare a quello che è stato. Voglio guardare avanti, guardo al futuro con grande ottimismo, fiducia, determinazione, entusiasmo. Ho una squadra molto affiatata che mi sostiene, ho la collaborazione e il calore giornaliero della mia comunità che mi è molto vicina dal singolo cittadino all'imprenditore che stanno collaborando in tutti i modi. Quindi sono molto fiducioso per quello che saranno i risultati che da qui a breve verranno e ridarranno a tropea la dignità e quell'orgoglio che avevamo purtroppo smarrito in questi ultimi anni. Cosa dire ai suoi concittadini? Abbiate fiducia nella nuova amministrazione, ottimismo e ovviamente un po' di pazienza. È impensabile che nel giro di qualche giorno si possano risolvere tutti i problemi. Vengo sommesso ogni giorno da decine, per non dire centinaia, di richieste inascoltate da anni però ovviamente dobbiamo fare i conti intanto con un riordino della macchina amministrativa che si trova in una situazione disperata. Quindi non abbiamo personale, numericamente parlando, in grado di smaltire la mole di lavoro che richiede una città come Tropeca e ricordo sulla carta a 6.310 abitanti in realtà deve lavorare per un'utenza che rasenta i 100.000. Quindi rendetevi conto della sproporzione tra personale e esigenze.